a un certo punto c'era questo catanese Saro falsaperla come mai? come mai Saro falsaperla? non lo aveva in caso così è venuto o no quello è aveva bello posto, aveva fera mischino ci aveva fatto magari la canzone, la botta ai aici ci aveva tutti i presenti su un'usara falsaper ti ricordi? vendeva mutande ti ricordo? vendeva mutande gli andava anche bene c'era un lavoro poi la crisi i cinese la murri questo lavoro non andava più non andava più allora sai che fai no? il pensiero è l'estero ora l'estero uno cacciava famiglie che fa? arriva a Pattana Australia arriva in America non è facile prova diciamo a sbarcare il lunario in qualche paese più vicino a noi vedi la Germania no? questa maledetta Germania no maledetta per carità nel senso buono nel senso che ce l'abbiamo sembra a mezzo di veri spesso il nome Germania viene legato a emigrazione per quanto riguarda noi e dobbiamo sempre dire una cosa io sono stato a Norimberga dieci giorni fa ci sono una marea di siciliani che restano ma è giusto così legati alla terra natia quindi poi vogliono sempre tornare e queste barzellette questi video sono una sorta di ponte sono un ponte per legare sempre di più i siciliani che vivono all'estero è andato in Germania che è a mezzo di veri perché uno ogni volta quando deve emigrare il primo pensiero è la Germania è la Germania anche perché è l'unico paese in Europa un per ora non so ancora i cosi vanno buon' ancora si può stare sì è vero basta Saro arrivare da Salvo ora non è che uno che arriva in Germania a sud arriva e fa i soldi intanto c'è il problema del clima che già per noi è un problema terribile la lingua straniera ti devi ambientare le usanze è chiaro le abitudini è un'altra terra non c'è un salamariglio no perché c'è un focolare un focolare non c'è c'è un focolare arrivato a professione civile non si può fare basta il primo mese fu terribile non moscavo niente io c'è un po' che va a fare poi un giorno sai la fortuna di un siciliano di un italiano spesso io ho un altro siciliano ho un altro italiano perché si trova come dire l'unione la complicità che ti arrivava prima di dia non sai che ho sei di dia non chiedi certo certo un siciliano che aveva arrivato da qualche tempo prima e vendeva materassi ora anche lui non è che aveva fatto gran chiede giusto però aveva capito una cosa aveva capito che i tedeschi non sono abituati alle promozioni siccome tutto cosa vanno bene che c'è bisogno di fare offerte non ci sono gli sconti le offerte niente non c'è motivo quelle offerte bestiali allora giusto che ci venne l'idea senti facciamo una cosa ogni materazzo mio che vennevo ci rialiamo e ci pare da mutande dice che vennevo noi spattiamo ci stai ci vediamo i tedeschi a meno con questa scusa si convincono no? è binomio un materazzo è bello sì allora salvo sarà un caso sarà fortuna ma chi stavo primo mese di attività materazze e mutande assieme vennero mille materazze mille quindi decimila da mutande certo giustamente sarò i primi soldi che avevano stile vecchia maniera avevano la busta e mi sono andato subito a casa ragazzi dice vaia no no ce la va a manare ragazzi due pezzi da 500 euro 1000 euro anche per la soddisfazione per la gioia di dire vivete bene vivete meglio con i miei soldi guarda cosa ho fatto la fierezza l'orgoglio di un padre di famiglia di un marito bravo bravo caro cara sarita questi sono i primi 1000 euro guadagnati con la mia nuova attività vendendo mille materazzi e decimila la para devo tagliare bravo tuo sarò che ci manda questa lettera che è 1000 euro tre giorni dopo 10 donne a busta apre e c'era un'altra lettera e 5000 euro apre la lettera la moglie caro sarò questa è la moglie perché le moglie anche quando scrivono parlano caro sarò anche io qui mi sono organizzata che ti mando 5000 euro guadagnati con la mia nuova attività bravo con madarazzo solo e senza mutanni grazie 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 a tutti.